Realizzata la statua di San Bartolomeo, patrono di Di Pellare. L'artista del Borgo Cilentano, Emanuele Stifano, termina con orgoglio l'opera commissionata dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, insieme con la Banca del Cilento di Sassano e Vallodidiano e della Lucania, che hanno cofinanziato la realizzazione di una statua in marmo bianco di Carrara, destinata alla chiesa di Pellare, frazione di Moio della Civitella, che raffigura appunto il santo patrono, San Bartolomeo. La statua verrà collocata alla base dell'alto campanile della chiesa, venerdì 19 agosto alle 19. Sto passando questa pietra, questa è una pietra che serve per ripulire il marmo dai segni dello scalpello, che ho lasciato in precedenza, quindi diciamo che sono nella rifinitura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.